Ad Andria gli studenti del liceo Carlo Troia sono scesi in strada per denunciare l'ennesimo incidente strutturale e chiedere alla provincia maggiore sicurezza per la loro scuola. Questo dopo i fatti del 7 febbraio scorso quando è crollata la finestra di un'aula, fortunatamente senza ferire nessuno. Damiana Sgaramella. Classi e banchi vuoti questa mattina nel liceo classico Troia di Andria. Gli studenti dell'istituto Andriese sono scesi in piazza per partecipare al sitino organizzato in seguito all'ennesimo incidente strutturale verificatosi nei giorni scorsi con la caduta del vetro di una finestra in una delle aule del plesso scolastico. È una scuola che ha sfornato nel corso degli anni personalità anche di spicco di rilievo, uno degli istituti più rinomati che non merita questo trattamento. La parte di un ente, quello della provincia Bat, che si è dimostrato ancora una volta ad essere un ente, tra virgolette, fantasma. Attendiamo e continuiamo ad attendere interventi strutturali che mancano da troppi anni. A dicembre è crollato un pezzo di intonaco dal soffitto della palestra che adesso è inagibile, con ulteriori disagi anche per l'organizzazione delle attività didattiche, per le aule che utilizzavamo anche a rotazione, sia per il Covid, per rispettare le misure di distanziamento, ma anche per una carenza di aule rispetto a quelle che invece sono il numero degli studenti e le iscrizioni che continuano a pervenire in questo istituto. Per troppo tempo c'è stato detto che i soldi e i fondi non c'erano. Adesso i soldi ci sono, adesso bisogna passare ai fatti. Non è possibile che in Italia si intervenga soltanto dopo che si sfiori la tragedia e questo è successo ormai troppe volte e non possiamo più accettarlo. La scuola in sicurezza rappresenta da anni il nodo cruciale per il quale la stessa dirigenza scolastica, al fianco dei suoi studenti, si batte alla cremente ma con essiti, ad oggi poco soddisfacenti. Idealmente noi siamo dalla parte degli studenti perché è da tanto tempo che segnaliamo questi problemi all'ente proprietario dell'immobile, cioè alla provincia. Siamo in attesa di provvedimenti che noi come scuola direttamente non possiamo prendere perché non avremmo le forze per poter intervenire su tutti gli infissi dell'istituto. Quali sono gli step successivi? Voi attendete solo una risposta da parte della provincia? Purtroppo non possiamo fare altro in relazione a questo problema. Ci hanno assicurato che verranno presi i provvedimenti al più presto e più che continuare, cosa che sicuramente faremo a sollecitare, abbiamo una prossima riunione sia del Consiglio d'Istituto che del Collegio dei Docenti all'ordine del giorno, anche una ulteriore riflessione su questo con possibili iniziative. Quindi continueremo a tenere sotto pressione l'ente preposto perché risolva il problema il prima possibile. Grazie. 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 Grazie.